ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film appena uscito purtroppo non nelle sale italiane ma direttamente in streaming che artemis foul fantasy avventura diretto da kenneth branagh con protagonista ferdi a show e judy dance il film è tratto dall'omonimo romanzo di eoin colfer e ne parlo con gran piacere con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo buongiorno giulio un altro eroe dei romanzi per i ragazzi che arriva al cinema e questa volta è disney che lo prende lo copta e ce lo presenta anche se diciamolo non ha avuto pochi travagli questo film vero è decisamente ha avuto una lunghissima gestazione quasi lunga quasi vent'anni nel senso che il romanzo che poi è diventato una saga di o in colfer e dei primi anni 2000 alla disney convinta del dell'idea compro i diritti ma ci vogliono più di 15 anni prima di arrivare alla vera produzione guidata da kenneth branagh questo questo film è il primo capitolo di eventualmente un franchise se un potenziale franchise perché c'è da da vedere il discorso che essendo uscito in streaming e non nelle sale non ha ovviamente avuto un ritorno economico come quella del bottiglino quindi del bottiglino quindi vedremo se ci saranno altri capitoli intanto partiamo del da questo film che un film di introduzione un film d'inizio a una saga fantasy ma non solo fantasy ci sono diversi elementi un po fantasy un po fantascienza un po crime e racconta la storia di artemis faul secondo figlio dodicenne figlio di artemis faul che è un noto esperto d'arte archeologo ma anche un considerato anche un criminale di opere rubate un giorno il padre scompare misteriosamente e il figlio inizia la ricerca si imbatterà in un mondo assolutamente a lui ignoto o meglio il padre era anche un grande esperto di favole irlandesi di fate ma il figlio credeva e non credeva a quello che diceva il padre pensava più fosse una sua immaginazione una sua passione invece scoprirà che nel sottosuolo esiste un mondo di fate la cui città principale è cantuccio e dove abitano folletti gnomi nani e contro questo mondo in un certo senso si scontrerà perché dovrà recuperare un oggetto magico che si chiama aculus che è l'oggetto simbolo di questo popolo sotterraneo da dare in scambio alla libertà del padre perché nella ricerca artemis faul ha scoperto che è stato rapito da una strana fatto una fatta oscura chiamata opal cobol e quindi per salvare il padre dovrà dare questo oggetto magico ma siccome la ricerca del medesimo è anche da parte del popolo delle fate gli esseri umani guidati appunto da faul e non solo perché troverà in questa avventura degli alleati si scontreranno con questo popolo del sottoterra gli ingredienti diciamo che non è che siano proprio originalissimi la combinazione com'è che che qual è il risultato appunto di questa combinazione allora la combinazione è particolare nel senso che è un film a me personalmente che mi ha incuriosito il film appunto è un adattamento del diciamo del primo romanzo ma in realtà ci sono anche elementi che sono stati presi un po qua e là da altri romanzi quindi si ha la sensazione di avere un piccolo bigino di una parte della saga si percepisce che alcuni elementi sono stati molto ridotti ridotti però quello che personalmente ho trovato un mi ha lasciato una curiosità perché comunque confrontandosi col genere fantasy letterario e cinematografico si sposta un pochettino perché unisce anche l'elemento come detto prima della della fantascienza questo mondo cantuccio è in realtà un mondo altamente tecnologico gli stessi elfi sono un popolo molto molto colto molto tecnologico ma non sono gli elfi che abbiamo visto di solito al cinema penso a quelli ad esempio di tolkien sono dei più degli elfi che assomigliano alle fate appunto irlandesi di cui lo scrittore d'origine da cui si prende spunto anche molto dalla tradizione di quella di quella letteratura di quella cultura quindi questa commissione di generi è assolutamente piacevole poi c'è anche l'elemento investigativo crime dei di in realtà della storia anche un po di questi di questa stirpe di di famiglia di artemis fall perché si chiamano tutti artemis fall e vengono differenziati tra junior senior però è la storia di una famiglia che ha sempre avuto a che fare un po con con questo tipo di di confronto tra appunto fate e esseri e esseri umani e poi un po la commissione di dei vari alleati che artemis fall trova che all'inizio sembrano dei nemici ma poi si rivelano degli ottimi alleati è un insieme di elementi che personalmente ho trovato curioso interessante devo dire la verità non è un film che mi ha rapito interamente però mi ha lasciato una curiosità cioè mi ha lasciato la curiosità di voler vedere eventualmente un capitolo successivo sempre se ci sarà per il discorso il discorso fatto sopra ma dietro la macchina da presa troviamo un regista decisamente affermato perché un grande attore come Kenneth Branagh che ultimamente si sta appoggiando a romanzi per tradurli poi in opere cinematografiche un paio di anni fa aveva fatto l'operazione di assassino sull'oriente express però non è che si era già misurato anche con i supereroi insomma però non è che Branagh insomma si muova proprio agilmente in questo caso in questo caso se direi concordo con quello che dici tu Pierpaolo diciamo che ultimamente gli piace a Kenneth Branagh il cinema mainstream ma aveva fatto anche Cenerentola tanto per citarne un altro devo dire che comunque se la cava anche perché dal film un grandissimo ritmo è un film molto dinamico molto da un ritmo serrato che comunque ti racconta perché è un primo capitolo quindi ti introduce a questo molto a questo mondo secondo me lui si diverte cioè nel film ho trovato un grande divertimento nel 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 raccontare tutta questa indagine tutta questa avventura anche il lo stesso Artemis Fowl non è il classico eroe è un personaggio anche abbastanza spocchioso come lo era il padre interpretato da Colin Farrell e quindi Kenneth Branagh in realtà riesce a dirigere un film che ha una una sua identità si vede comunque la sua mano anche in assassinio sull'oriente express era stato molto bravo a dare ritmo a un film apparentemente statico perché è ambientato tutto in un treno qua spostandosi tra tra mondi tra personaggi tra anche viaggi un po nel in alcuni momenti anche in Italia e poi ovviamente in in Irlanda secondo me ne viene fuori un un lavoro soddisfacente ripeto non entusiasmante ma curioso e il giovane protagonista perché il film appoggia credo però grande parte anche su questo giovane protagonista che potrebbe potrebbe condizionare diventare il nuovo Harry Potter o perlomeno insomma potrebbero essere anche queste le intenzioni eh a a uno spessore come il protagonista di Harry Potter oppure direi proprio di sì Artemis Fowl l'interpretazione pardon di Ferdi Asho nel ruolo di Artemis Fowl è molto eh convincente è completamente quasi integramente eh protagonista del del film e direi che se la cava bene anche a ad avere questo tono come hai detto prima molto spocchioso anche perché una cosa che non ho detto in generale della famiglia eh Fowl è che sono persone intellettualmente molto colte ma molto molto intelligente decisamente al di sopra della della media e decisamente al di sopra dell'età di eh Artemis eh Fowl eh vi è all'inizio viene fatto un piccolo eh prologo introduttivo su chi è Artemis Fowl junior ed è uno che a sette anni aveva già battuto il più grande giocatore di scacchi aveva fatto una serie di eh di studi che non non fanno parte della della sua fascia d'età e il l'attore è molto eh molto bravo e ha anche questo look eh spocchioso con gli occhiali eh occhiali da solo a specchio perché viene raccontato nel film per non eh rimanere infatuati sciarmati dalle fate eh gli umani devono usare questi occhiali da solo e gli diamo e diciamo che questi occhiali da solo gli dà anche un questo look eh molto glamour un pochettino alla man in black ma eh concediamoglielo e quindi lui funziona funziona bene anche il resto del del cast la stessa eh Lara McDonnell che è anche lei molto giovane eh che fa il personale della fata spinella tappo e altrettanto altrettanto brava si intitola Temis Foul lo trovate in streaming ultimo film firmato da Kenneth Branagh a Cinetevilandia è piaciucchiato incuriosito e vedremo se ci saranno degli altri eh capitoli per questa recensione è tutto come sempre ti ringrazio Pierpaolo ciao a tutti alla prossima